Il titolo Roberto non lo so, però il 5HG che riprende? Allora Leo, benissimo, tu puoi chiedere informazioni tranquillamente a Italia Whisky 5 CFW che fa Fabrizio, Italia Whisky 5, lui è un vecchietto, ha lanciato a Whisky e è ancora davanti, HI. Benissimo, per quanto riguarda invece Antonio, io vedo qui sul QRZ che appunto non c'hai mail scritto, non c'hai niente, se hai possibilità di darmi una mail ti può fare la registrazione da Roberto, appunto ILH, ti può fare perlomeno la registrazione in listare in DMR, ti può contattare e lui che si è preso la pega diciamo di fare un po' da coordinatori per queste registrazioni perché purtroppo se sbagli a fare un passo della registrazione in DMR non se ne viene più a capo, è un pochino complicato. Vediamo poi, il 5FSN e il 5HG. Ok, ti ringrazio, ora la prima occasione che ho è su QRZ, aggiorno il profilo perché io mi sono appena iscritto sul profilo QRZ ma non gli ho inserito dati, ho messo soltanto il nominativo e il nome, però se manca la mail sarà cura mia ora quella di provvedere ad aggiornare il profilo su QRZ. Intanto vi ringrazio per la disponibilità sia tua sia del collega perché effettivamente fa un bel servizio, ci dà veramente una mano perché ho qualche collega a Firenze che usa DMR, però mi dice che è ostico come sistema, ma è abbastanza paraginoso e quindi vabbè bisogna prenderci un pochino dentro. Io ringrazio i ragazzi che vi devo dire, magari mi ci metto con calma, potersi fra un decennio e ci volevamo anche io, ma come ora magari avrete le grosse difficoltà. Grazie e ti annuncio correttivo perché domattina alle 5 sono la sveglia e vi devo preparare che sono in missione con il lavoro e devo andare via. Mi fa piacere diverti sentito proprio a livello telefonata, proprio vera e propria, senza rumore, è quasi reale questo digitale, guarda ci ho fatto anche la rima, questo è un bravo. A te U5FSM. Allora senti Antonio, sarà mia cura controllare appunto appena tu hai aggiornato il profilo in profilo diciamo del QLZ con le mail e tutto di dare appunto comunicato a Roberto appunto che perfezioni la cosa importante, se non ce l'hai, non lo so comunque organizzati, servirebbe o la fotografia del tesserino, praticamente quello blu, oppure se non c'hai trovata la fotografia della rete a cui ti hanno assegnato il nominativo, perché diciamo per evitare fordantare i casini del genere, poi ti spiegherò, assicurarsi che il nominativo sia vero, perché devi sapere che oltre a essere in rete regionale potenzialmente ti puoi spostare in ponte e chiacchierare anche in America, nel senso si chiacchierà in tutto il mondo con questo sistema. A presto di sentirci, non ti ritengo oltre, un saluto a te e anche a Leo. A presto di sentirci su questo sistema, un bel sistema, c'è l'R0, c'è tante altre frequenze, basta tutto su internet e tu scopri tutto il mondo. Per qualsiasi cosa a livello di 5FM potete cercare tranquillamente, sono disponibili, c'è la mail sul QLZ e tutto. 5HJU, portatevi in questo caso, ciao a Leo, ciao Antonio, buona serata. Ritorno a Z5 e KZ, guarda io c'ho tutto sull'email, c'è l'email su QLZ.com e c'ho anche il tesserino rinnovato proprio dalla settimana poco fa con la fotografia lì alle scoposte di Pisa, in piazza Vittorio Emanuele, sicché mi hanno dato ancora più di 10 anni. Ora sento Fabrizio, casomai che via email e mi mando tutto, via email che la fotografia nel tesserino. vi saluto e vi ringrazio, ciao Antonio, ciao HGU, scusa mi ricordo il tuo nome oppure non riconfondimi, ciao grazie, buona serata. Sì, del Tavramo Zulu, buonasera, tutto 5 del Tavramo Zulu, non mi ricordo chi sei, avanti. Buonasera, scusa Michele, HGU, c'è feroce perché siamo vicini d'estate, lui sta di là dalla galleria, io sto sopra e quindi un salutino perché quest'anno non ho sentito, ci sono stato poco al passo nella collina e questo l'ho sentito e quindi un salutino veloce, vai rimettoni a Mirelle e a HGU e poi riprenderai te, Whisky 5 del Tavramo Zulu, Firenze. Mi sembra che mi ha lasciato, ciao Lì, ma senti senti, guarda io tra l'altro un passo nella collina interrotto, volevo venire da Giorgio a farci un pranzetto, una cena, una pizza ma quest'anno non sono mai salito lassù eh, carissimo, purtroppo sì, credenta, bravo Zulu, poi mi informavo lì non mi faccio registrare, ora mi ricordo, aspetta, si chiama Giorgio, eh? C'è il nome e il cognome simile ma, eh? Io vado, guarda, non ci vado appunto nella lingua eh? Giorgio, me lo ricordo, me lo dici sempre, eh? Eh sì, qualcosa di simile, vai. Allora riprendo io, scusami Mirelle, apri pazienza per questo ping pong, eh no no, Guido, Guido, anche il, ma ho visto la strada chiusa, però sul sindaco anche ora, sembra che, sembra che la situazione si sblocchi a primavera e dovrebbero risistemarla perché era impraticabile, che era impraticabile, eh? Tutto qua. Previto, un salutone a Giorgia e ripasso via a Michele e a Caio, io sono l'altro, ah, 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 ah. Mi hai lasciato già, Guido, mi ricordavo il nome e il cognome simile, sai? Allora, dipende, comunque tanto ci sentiamo, speriamo per questa prossima estate che rifacciano anche la strada, eh. Ti saluto, grazie, grazie a prodottentori di Z5NKZ, vi grazie a tutti, la buona serata. Ciao, ma i 5 India Oscar Foxtrot portati in residenza e via incontro 3, C4F.